Come si dice, chi perde spiega, chi vince esulta. Sono arrabbiato perché secondo me abbiamo fatto un grande primo tempo, potevamo e dovevamo vincerla questa partita, però come al solito ci complichiamo la vita. Parole che saranno rimbombate nello spogliatoio del Nardò per diversi giorni dopo la sconfitta a Casalinga con il Martina, Fabio De Sanzo, allenatore dei Granata, non le ha mandate a dire la rimonta ospite con Silvestro e la Monica dopo il vantaggio firmato Correnti è costata lo stop dopo cinque risultati utili di fila. Cosa cancellare allora? Gli errori ti portano a crescita, gli errori ti portano a delusioni, però allo stesso tempo chi gioca deve avere un po' di, passatemi il termine, palle, un po' di palle perché il calcio è fatto anche di queste cose, magari leggere i momenti, leggere le cose, però io non do colpa a nessuno, ci mancherebbe altro anche perché ci sta, può succedere un errore, non dobbiamo focalizzare solo questo, però è pur vero che dobbiamo guardarci intorno. A incidere sul risultato nel derby con il Martina è stato un errore del portiere Neretino De Luca in occasione del centro dell'1-2. Un'attitudine che a De Sanzo non è affatto piaciuta è quella esibita dalla squadra rispetto alle rimonte al passivo. Quella di domenica scorsa replica la sequenza vista nei precedenti 180 minuti con Casarano e Real Acerrana, in quei casi però il Nardò aveva portato a casa un punto. Se è andato in vantaggio col Casarano, siamo andati in vantaggio domenica, siamo andati in vantaggio oggi, la partita possono tranquillamente chiudersi 1-0, però ripeto, adesso è compito mio fare alzare forse di più la tensione, non lo so, però di sicuro metterò rimedio. Alle porte c'è un dicembre caldo che avrà il via con la trasferta sul campo della Palmese domenica 1 dicembre e proseguirà ospitando Brindisi e Fasano con nel mezzo la trasferta sul campo della Virtus Francavilla. De Sanzo conta nel mentre anche di risolvere attraverso il calcio mercato i problemi generati dalla coperta corta nel parco under. Ci manca il passo per diventare una grande squadra, dobbiamo cercare di rimpinguare questa rosa perché stiamo veramente diventando pochi.